In questo breve video spiegherò le caratteristiche e le funzionalità dell'applicazione Creatly. Dopo aver aperto il browser, visiteremo www.creatly.com e si aprirà l'home page dell'applicazione. Creatly permette di creare diagrammi, marchi mentali, schemi e qualunque altra cosa che necessiti di una rappresentazione grafica. È un'applicazione web basata su Flash ma è scaricabile anche da Google Play e su App Store. È possibile provare questa applicazione senza effettuare la registrazione, ma in questo caso entreremo in una modalità demo che ci permetterà di disegnare i nostri diagrammi ma non di salvarli. Quindi per poter utilizzare l'applicazione in modo più completo sarà necessario effettuare la registrazione. Basterà cliccare in alto a destra su Sign Up. Ci verrà richiesta il nostro nome, il nostro cognome, la nostra mail e una password. È possibile in alto ad autenticarsi attraverso il profilo Facebook, Twitter e Google. Io mi sono già autenticata e quindi cliccherò sul segno. Mi verrà richiesta la mia mail, la mia password e potrò poi entrare nella mia dashboard. Qui potrò ottenere sotto controllo tutti i lavori effettuati in precedenza e potrò crearne di nuovi cliccando sull'icona in alto a destra in Document. L'applicazione mi suggerisce una lista di tipi di diagrammi che posso creare e mi basterà cliccare sopra a un tipo di diagramma, ad esempio My Maps, per crearlo. L'applicazione mi suggerisce una libreria di template preimpostati che potrò usare o potrò iniziare a disegnare il diagramma da una pagina bianca. Darò il nome al mio diagramma e creerò il documento. Entrerò poi nella pagina di Outoring. Qui potrò creare il mio diagramma semplicemente trascinando le forme geometriche che troverò sulla sinistra nel foglio. Di lavoro. Potrò poi unire le varie forme attraverso delle linee e delle frecce in modo molto semplice. È possibile scrivere all'interno delle forme cliccando sull'icona A. Tutti gli elementi sul foglio di lavoro possono essere modificati nella dimensione e nel colore. Si può scrivere il testo anche al di fuori delle forme geometriche cliccando sull'icona in alto A e potremo scrivere il testo. Per condividere il nostro diagramma con altri utenti basterà cliccare sulla destra Share. Qui inseriremo la mail dei collaboratori che vogliamo invitare e cliccheremo su Add. Tutti i nostri collaboratori potranno modificare il nostro diagramma e commentarlo suggerendici delle modifiche. Noi potremo vedere questi commenti cliccando sull'icona Comments a destra. Potremmo utilizzare anche dei template preimpostati che ci suggerisce l'applicazione cliccando in alto a sinistra su Template. Qui appunto si aprirà una grande libreria e per utilizzare uno di questi template basterà cliccare sul tasto Use. Si aprirà quindi sul nostro foglio di lavoro. Il diagramma può essere modificato nel colore, nelle dimensioni e anche il testo per adottarlo al nostro diagramma che vogliamo creare. Una volta finito il lavoro, per esportarlo cliccheremo sull'icona in alto a destra Export. Potremmo esportare il nostro diagramma in vari modi o inviarlo tramite mail. Potremmo esportare il nostro diagramma in alto a destra.